Michael Jackson con Beath 8 e 09, questo era il Crystal History delle 8, ben tornati qui con noi, bentornati a Good Money Milano, 8 e 09 e inizia la rubrica più importante della settimana, almeno così a detta di lei, perché stiamo per vedere dove andare o non andare. Gli eventi della settimana a cui io e Riby non andrei! E buongiorno Riby, allora come va? Come va? Benissimo! Sono fresca come una foglia sotto la pioggia. Ah, un po' marcia quindi. Esatto. Ok, benissimo, benissimo. Volevo proprio rendere questo, bravo, grazie. Bene, grazie, hai dato benissimo l'idea, ecco cos'era quello lezzo che sentivo questa mattina. Ecco. Ecco, benissimo. Allora... Ma in realtà sai perché sono così? Perché sono piena di tutta questa Fashion Week. Ah, quanti eventi si è andata da Fashion Week? Zero. Benissimo. Zero da sempre e per sempre. Non è vero, un evento da Fashion Week... Weeks... Weeks... Negli anni passati l'abbiamo fatto. Tu l'hai fatto anche, no? Sì. No, vabbè, io no. Io era una roba molto, molto diversa. Villo se hai il coraggio di dirlo. Era una roba di vent'anni fa, più o meno. No, vent'anni fa era, giusto vent'anni fa, con la mia classe a scuola, durante le ore di filosofia avevamo portato in aula il progetto Moda e a termine di tutto l'anno, insieme alla Camera della Moda, avevamo fatto una sfilata di moda. Pensate, anche Modena. Dove c'era un eri B che non sembrava un eri B. Ah, ok, va bene. Però è stato divertente fino a un certo punto, dopodiché c'era dello stress vero. Ah, ok, vabbè, la moda stressa, il fashion stressa. No, e invece cosa ti stressa questa settimana? In realtà ha voluto fare un po' un calderone, nel senso che volevo soltanto dirvi che tra il 20 e il 26 di febbraio, cioè quindi in sei giorni pieni, a Milano ci sarebbero stati 160 eventi organizzati da Milano Fashion Week. In più c'è tutto quello che è all'atto. Il fuori Fashion Week. Esatto, esatto. Io mi chiedo come Céline, ad esempio, abbia tutta sta voglia di andare a fare questi eventi, ma come lei tanti altri. Céline era la nostra ospite di ieri, appunto, che ci raccontava, l'altro ieri, l'altro ieri che ci raccontava che lei, appunto, andrà a tutti gli eventi e povero Emi dovrà seguirla. 160 eventi sono tantissimi, è vero che magari, cioè, nessuno riuscirà a farli tutti perché si sovrappongono tantissimo. Però, raga, anche soltanto fanno una decina, secondo me ti viene l'esaurimento nervoso e poi non capisci dove sei stato. Ah, vabbè, tutta la settimana secondo me non sai dove sei, in realtà. Sì, questa è la settimana, in realtà sbagliano a chiamarla Milano Fashion Week, dovrebbero chiamarla Taxi Fashion Week e Uber Fashion Week e Driver Fashion Week. Cioè, è una delle poche settimane dove effettivamente taxi, Uber e driver privati si fanno bei soldoni. Ma dai, vai con gli eventi. Allora, un evento c'entra proprio con la Milano Fashion Week ed è organizzato da un altro mio... Ah, c'è il rimonemico. Sì, esatto, che è l'East Market, che debutta in Tortona. Quindi, durante la Fashion Week si sposta e dal 22 al 25, a solo 6 euro per ingresso, si sposta in Tortona e potete andare a comprare i vostri vestitini vintage. E' una cosa bella anche... Divertitevi. Appunto, amica dell'ambiente. No, no, senza dubbio amico dell'ambiente, però vorrei vedere quanto costano questi vestitini vintage. Ma si risparmia sulla filiera produttiva. In realtà si risparmia sulla filiera produttiva, ma sai, com'è fashion moda? Fast fashion. Fast fashion, sempre fast fashion. No, vabbè, non lo so. Comunque, un saluto agli amici di Sparket, come sempre. Poi, in realtà c'è una roba che, secondo me, a te potrebbe forse anche interessare. Eh, cos'è, cos'è, cos'è? Ah, domenica, dalle nave a Buccinasco, per solo 18 euro, puoi giocare due ore, ok? C'è il All You Can Play Beach Volley. Ah. Puoi giocare per due ore con coach che ti aiutano e ti dicono che fare. Può interessare la nostra producer Viola, che lei è una pallavolista, quindi... Vai, Viola, divertiti, ci saranno un sacco di bei ragazzi, anche, secondo me. Ecco, vedi, c'è sempre un lato positivo. Cioè, io non ci andrei mai. Non avevamo dubbi, se no non l'avresti detto. No, esatto. La tua roba è dove non vai, quindi... Esatto. Quanti ne hai ancora? Tre. Allora, guarda, facciamo così, canzone e poi ascoltiamo gli altri tre eventi a cui Eribi non andrebbe, ma a cui io vi invito invece ad andare voi, perché insomma siete liberissimi di fare quello che volete e non ascoltare questa qua. Non c'è andate. Ecco, appunto, va bene. Andiamo avanti invece noi con Dua Lipa, Dance the Night, qui su Crystal Radio alle 8 e 14 minuti. Dua Lipa alle 7 e 17 minuti, qui su Crystal Radio, sempre qui con Good Morning Milano. E allora al 331-7853-555 potete scriverci un Whatsapp. È arrivato un Whatsapp di Andrea. Leggilo come lo scrive però. Erika! Bravo, grande. No, come sarebbe invece? No, lo posso fare, perché se no la gente... Se tu dovessi rispondere a lui, lui si chiama Andrea, come sarebbe? Andrea! Ok, così, perfetto. Ecco, questi sono i grandi messaggi che arrivano qui su Whatsapp. Non so, cose vostre, io non voglio sapere. Esatto. Sono dei pizzini che vi mandate tra di voi. Esatto, esatto. Sono nomi in codice anche. Ah, nomi in codice, ok, perfetto, va bene. Andiamo avanti. Altri appuntamenti? Allora, venerdì, quindi questa sera alle 19, non so dove, perché non l'ho scritto. Ecco, andiamo bene. Tanto non ci vuoi andare, quindi. C'è la Decadence. Cos'è? A Decadence sarà? No, non è al Decadence. No, no, rivivi tutte le hit dal 2000 ad oggi. Ah, è bello. Che palle. Ecco, ma perché? Perché? Perché l'ho già vissuto e perché devo andare a vivere di nuovo? Vabbè, ma perché si immagina troverete bene. Ma poi a me questa roba… Non hai dei ben ricordi nel 2000 e oggi? Sì, può essere. Ma mi fa un po' tristezza perché ci saranno tutti quelli che sono ancorati al passato. È come andare a un concerto dove fanno musica rockabilly adesso, cioè nel senso… Eh, raga, anche meno. Cioè se vado a vedere un concerto dove fanno… La cover band dei Beatles. Non posso andare. Sono morti tutti quasi. No, tutti no. Ne sono ancora due vivi. Paul McCartney è morto perché sappiamo. Paul is dead, ricordatevelo sempre. Vabbè. Vabbè, andiamo avanti. Non mi ricordo dov'è che era questo, ma comunque cercatelo. Ho scritto Decadence. Sì. Ok, ciao. Ma perché la dance è la Decadence? Sì, sì, sì. Non perché è decaduta. No, 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 assolutamente. Però poi ho pensato che magari a te ti piaceva far sta roba. Ancora? Sabato 24 alle 21 all'Alex Pub di Senago fanno una cosa dove io ti ci vedrei benissimo. Va bene. Una bella country night. Bellissima. Con un bel cappello. Angelo Guarino, salutiamo il nostro ex regista. Lui sì che sarebbe nato. Con dei bei stivali ti ci vedo bene a fare tutti quei ballettini di gruppo. Allora io vi dico, sicuramente dovete collegare o rivedere questo momento anche in video perché ha mimato il balletto di gruppo. Com'è che è il balletto di gruppo? Scusa Erika. Ah, ecco così. Dai, però sono ipnotici. Dovreste vederlo. Allora a me piacerebbe vederli da casa comodamente sul mio divano. Ma ci saranno su YouTube dei video. Sì, perché sono ipnotici. E poi ogni tanto fanno iiii e girano. Ma tu li hai visti tu queste roba? Com'è che fanno? Comunque iiii. Potete andare sabato 24 all'Alex Pub di Senago a fare la vostra serata country night. Divertitevi amici. Costo? Non c'è già un costo. Non lo so, andate lì e vedete. Ok. Invece c'è una cosa domenica che mi auguro che ci sia bel tempo, perché mi piacerebbe andare a vedere, ovviamente non praticare, ma non lo farò neanche di andare a vedere. Domenica dalle 11 in Piazza Ateneo Nuovo, cioè in Bicocca, c'è un allenamento di parkour aperto a un pubblico adulto. Quindi andate e guardate questi che fanno... Scusa, perché mi hai proposto il country e non il parkour a me? Perché ti faresti solo del male. Ok, va bene. Non mi ci vedi a saltellare tra un muretto e l'altro. Assolutamente no. Gradino, dal primo al secondo gradino di una scala. Io molto probabilmente mi potrei fare male, 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 cadendo dal primo gradino. Ok. Tu dal secondo. Ah, ok. C'è già il 50% in più di probabilità. Però se qualcuno ci va, mi manda le foto. I video, Anzio, bello. No, anche delle foto mentre salta, mi piacerebbe vederle. Tu sarai più di fotografi che fanno... Immortelleranno, salti... Chissà se Andrea Kerchi ci va. Adesso gli mando un messaggio. Gli mando un messaggio e dico, Andrea, beato te che puoi andare lì. Vabbè, dove questo, scusa, dicevi? Ah, piazza dell'Ateneo Nuovo. Ok, che è la piazza principale, diciamo, della Bicocca. Solitamente la gente festeggia le lauree. Ok, perfetto. E potranno festeggiare saltellando da un muretto all'altro, ancora meglio. Sì, che bello. Ma non è sempre... Quando? Domenica, dalle 11, mi raccomando pubblico adulto, non vogliono vedere bambini. Non credo ci sia scritto questo. No, c'è scritto aperto soltanto a un pubblico adulto. Ok. Cioè, quindi, se ci va un bambino, bruciato. Così, su un po', su alto combustione. Sono i laboratori di fisica della Bicocca che lavoreranno su questo. Esatto, ma c'è una motivazione, sicuramente, del fatto che proveranno a fare delle cose... È un allenamento intensivo. Intensivo? Se non l'ho mai fatto, come faccio a fare un allenamento intensivo? Non credo. Ah, sei iniziata a saltare i gradini quando eri bambino e sei una personaggina, almeno 4-5 gradini, sai fare. Ma li saltono da un muretto all'altro, da un parapetto all'altro. Iniziano con i gradini, eh. Da una finestra al tetto. Iniziano con i gradini. Non sai niente. Iniziano con i gradini. Tu quanti cose hai fatto di parkour? Nessuno. Ah, ok. No, volevo capire, mi facevi sapere tutte queste cose belle sul parkour. Infatti non ne sai neanche una. Va bene. Mi sa se il mio amico Andrea, quello che ha mandato il messerlo, Andrea, lui ha mai fatto parkour. In questo momento vi faccio saltare le casse di qualche autoradio. Dobbiamo pagare i tweet delle casse. Ho finito. Finito? Possiamo salutarti? Sì. Possiamo congelarti per questa settimana? Anche congelarmi se volete. No, oggi non è tanto il freddo quanto l'umidità. Oggi è questo il moto della giornata. E allora, grazie mille RB. Noi ci risentiamo venerdì prossimo con i tuoi appuntamenti della settimana. E invece con voi, adesso, Onda Alta, scelta da RB. Posso salutare? Chi? Pippo Baudo comunque era un grande professionista. Ok, ancora un grande professionista. Va bene, ok. Va bene, salutiamo tutti quanti Pippo Baudo. E vi lasciamo invece con uno dei vincitori, secondo RB, del Festival di Sanremo, appunto Darjean D'Amico con Onda Alta, qui alle 8 e 23 minuti su Crystal Radio. E poi, fra pochissimo, di nuovo qui con voi, una piccola pausa e poi torniamo qui per l'ultima mezz'ora di trasmissione, tutti quanti insieme. A fra poco, ciao ciao!